Per Antonio Lapenna è davvero tutto pronto per il calcio d'inizio. Tocco liftato con il contagiri per Kwame che va a puntare la porta, va Kwame con rapidità, pallone sul destro da calciare! Sepe la mette oltre la traversa, già in pianità un bel po' Nicola a parlare con i suoi ragazzi, Dodò, Koulibaly, forse un fallo di Vilena lascia correre il direttore di gara, buona avventura, cerca un'idea, trova Icone. Tocco col mancino dentro, buona avventura! E c'è l'1-0 della Ferentina al quarto d'ora! Più o meno la stessa azione che abbiamo visto a Marassi, si replica tre giorni dopo al Franchi. Che bello, che bella giocata da parte di Buonaventura che la inizia e la finisce con nel mezzo l'assist da parte di Icone che se la porta dal destro al sinistro, entra in aria praticamente solo, può guardare e arriva proprio ricomparendo con una magia. Jack Buonaventura, prima la sradica via Vilena, poi lancia Icone, Icone va sulla riga di fondo, la rimette dentro col sinistro e qui compare lì in mezzo, proprio Jack Buonaventura che col mancino batte imparabilmente nell'angolo basso opposto a dove si trovava in quel momento Sepe. Mandragora, pallone in profondità per Icone, vai Icone entra in aria, pallone sul destro, Icone deve essere difinto e va con il mancino, Icone il tocco dentro, arriva Quamè e si salva la salernitana con Sepe che dice no all'attaccante della costa d'Avorio. Pallone concede qualcosa alla Fiorentina, rischia anche tanto, Vilena viene anticipato da Milenkovic. Quamè, ancora il pallone dentro per Milenkovic, l'appoggio per Cabral con il destro. Preferisce aprire sulla destra per Icone, il doppio passo, vai Icone, al raddoppio arriva Bonazzoli, Icone entra in aria, cerca un'idea, trova il cross, Biraghi stoppa il pallone, va a calciare dalla distanza! Vicino al 2-0 con il capitano Cristiano Biraghi, la Fiorentina. Palle alla porta, il brasiliano col mancino, Teccher scivolato e poi Quamè ha provato a far scendere il pallone. Coulibaly lascia cuore il direttore di gara, Cabral, Quamè, punta Bron, pallone sul destro, il cross dentro per Mandragora, poi Cabral si avventa sul pallone, rischia la Salernitana, Icone, rapidissimo, cerca un'idea, Ambrabat! Maggiore, prova a dare stavolta supporto alla linea d'attacco, Dià, pallone sul destro, tutto in velocità con Piontek e la Salernitana. Trova il pareggio praticamente all'unica occasione in 55 minuti di gioco, Civola riesce comunque a tenere il possesso del pallone. Ancora Saponara, bene, su di lui Coulibaly, va Saponara, entra in aria, serie di giocate! Pallone che supera di poco la traversa, difesa da Sepe, Tone Mancino, Perricone in tre sul francese, Emanaventura apre ancora il Mancino per Saponara, siamo sul limite, va Saponara, tocchetto dentro per Jovic, va il numero secco! E siamo 2-1, e siamo 2-1 ma il viene interrotto, fuori gioco. Speriamo di vedere un uomo in più, in velocità, attenzione perché è buono, c'è Radovanovic che tiene in gioco Jovic. Checking, ha messo praticamente in porta Jovic che l'ha insaccata alle spalle di... E' gol quindi, ed è gol! Te l'ho detto, te l'ho detto! Ed è gol! Jovic! Andiamo, andiamo! Ma le esultanze, c'hanno bloccato le esultanze! E Jovic si è fatto tutto il campo per andare a esultanze sotto la Fiesole! C'hanno bloccato le esultanze! E viene abbracciato dalla Fiesole Jovic, stavolta almeno c'è un vetro in mezzo, quindi qualcosa succede lì! Ma che giocata pazzesca! Ma che giocata pazzesca di Saponara! Ma trova il 95esimo minuto e soprattutto i tre punti per la Fiorentina con il triplice fisco di La Penna al Franchi. Passa la Fiorentina per 2-1 sulla Sarenitana. Punti pesantissimi questi, tre punti pesantissimi. Solo applausi per questa Fiorentina perché ha avuto la freddezza di trovare un gol decisivo dopo un momento difficile. È una squadra in salute e adesso si va a San Siro e poi purtroppo si riposa, però va bene così.